ciao a tutti diavoletti davanti ai miei occhi ho qualcosa di veramente strano volete sapere questo mistero è un grande mistero allora adesso vi spiego ieri abbiamo trovato un quaderno e questo quaderno appartiene ad un alieno eh sì questo quaderno appartiene ad un alieno proprio ad un alieno e sapete che questo quaderno ti permette di parlare con gli alieni eh sì con questo quaderno io posso parlare con gli alieni guardate adesso provo a scrivere ciao e l'alieno mi risponde eh sì mi risponde qualcuno dallo spazio guardate ciao cosa sono queste scosse di elettricità cosa ciao umano mi ha risposto l'alieno mi ha risposto l'alieno mi ha risposto guardate ha detto ciao umano cosa posso chiederti alieno strano stiamo parlando con un alieno sì stiamo parlando con un alieno sono emozionato adesso gli scrivo come stai vediamo cosa mi risponde come stai ok cosa sono queste scosse cosa ha scritto male perché sei male alieno strano oh mi dispiace perché stai male alieno glielo chiediamo ok chiediamo perché stai male vediamo cosa mi risponde gli ho scritto perché stai male cosa sono queste scosse cosa sono queste scosse cosa cosa ha scritto perché non voglio vivere più nello spazio cosa l'alieno non vuole più vivere nello spazio perciò è triste e dove vuoi vivere alieno strano vuoi vivere sulla terra dove ci sono tutti gli umani e vuoi fare del male agli umani oh che paura ok io questo quaderno lo butto non lo userò mai più perché quest'alieno è molto pericoloso e potrebbe farmi del male quindi buttiamo questo quaderno ok ok ho buttato il quaderno nella spazzatura ma voi non sapete quello che è successo ieri ieri vinci si è trasformato in un alieno eh sì proprio in un alieno volete vedere cosa sono queste scosse di elettricità oh no cosa vinci sei diventato un alieno ma cosa sono quelle mani giganti avete visto vinci si è trasformato in un alieno ieri e io adesso mi sono nascosto qui in giardino perché guardate dentro casa c'è l'alieno eh sì vinci si è trasformato in un demogorgone oh mio dio non devo farmi vedere è troppo pericoloso eh sì vinci è diventato pericoloso perché è diventato un alieno guardate la sua faccia è spaventosa sembra proprio un fiore velenoso devo nascondermi che brutta faccia la mia missione di oggi è far tornare vinci normale eh sì vinci deve tornare normale non può essere un alieno per sempre mi è venuta un'idea ora riprendo il quaderno che ho buttato quel quaderno che mi fa parlare con gli alieni che schifo ok l'ho preso e adesso sapete cosa farò cercherò di parlare con l'alieno e gli chiederò come si fa a far diventare un alieno di nuovo un umano gli chiederò questo e vediamo cosa mi risponde magari mi dà una pozione una pozione che fa tornare i vinci normale chiediamo questa cosa all'alieno magari mi dà una pozione ehi alieno chissà cosa mi risponde le scosse cosa ehi mi ha risposto meno male che mi ha risposto adesso alieno devo chiederti una cosa e mi devi rispondere chissà cosa mi risponde allora come si fa a far trasformare un alieno in un umano ok gliel'ho chiesto chissà cosa mi risponderà cosa sono queste scosse cosa cosa mi ha detto ora vengo a darti una pozione cosa l'alieno sta per venire qui sta per venire a casa nostra avete visto ha detto che sta per venire a darmi una pozione che fa ritornare i vinci un umano aspettiamo dov'è l'alieno ciao umano ora ti do pozione che fa tornare alieno umano tieni addio umano addio oh no avete visto era proprio l'alieno era uscito dal libro oh mio dio abbiamo appena visto un alieno era molto strano ma qui mi ha lasciato un regalo è proprio un regalo da parte dell'alieno lo apriamo oppure una trappola e se fosse una trappola e se fosse una trappola dell'alieno oh mio dio che ne dite lo apro ok apriamolo magari mi ha dato la pozione per far tornare vinci normale cosa cosa c'è qui dentro una pozione sì mi ha dato la pozione che farà tornare vinci un umano che bella questa pozione è di colore bianco ma c'è un piccolo problema come faccio a far bere a vinci questa pozione se adesso vinci è diventato un alieno ed è pericoloso come faccio a far bere a vinci questa pozione è un problema quindi l'unica soluzione per far tornare vinci guardate è diventato un alieno molto strano deve bere questa pozione ok se deve bere questa pozione significa che l'alieno deve venire qui e come faccio ad attrarre un alieno devo preparare delle trappole per l'alieno fatemi pensare come faccio a far venire l'alieno qui da me ma ho un piano io posso chiedere qualunque cosa agli alieni perché ho questo quaderno e questo quaderno mi risponde sempre quindi adesso chiedo all'alieno cosa piace agli alieni cosa piace chissà cosa mi risponderà ci sono le scosse ci sono le scosse cosa scimmie e miele agli alieni piacciono le scimmie cosa 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 agli alieni piacciono le scimmie e il miele ma 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 qui non c'è una scimmia voi vedete una scimmia no non c'è una scimmia perché non siamo in una foresta ma diavoletti mai arrendersi perché io qui ho una scimmietta guardate 3 2 1 non è una vera scimmietta è un peluche ma l'alieno penserà che sia una vera scimmia perché guardate cosa fa questa scimmia appena la clicco fa il suono della scimmia e l'alieno penserà che sia una scimmia vera ok iniziamo il piano scimmia vedi anche tu l'alieno strano eh sì è molto strano ok scimmia sei pronta l'alieno è lì che ci sta fissando iniziamo sta sentendo il suono adesso cosa fa diavoletti verrà qui da me o non verrà cosa si sta avvicinando diavoletti avete visto non è più lì l'alieno non è più lì sta venendo qui da me perché sta sentendo il verso della scimmia ok nascondiamoci è proprio l'alieno si sta avvicinando si sta avvicinando ok è qui guardate i piedi giganti le mani giganti è un alieno molto strano e fa veramente paura ok ora tu scimmia non mi servi più ok agli alieni piace anche il miele vero e guardate qui cosa del miele eh sì è proprio miele guardate è denso che schifo e adesso glielo mettiamo proprio qui così l'alieno verrà qui da me e poi appena è distratto gli faremo bere questa pozione cosa l'alieno si sta avvicinando al miele oh mio dio si sta proprio avvicinando guardate oh che ansia oh no guardate oh mio dio si è avvicinato al miele lo vuole mangiare ok adesso cosa devo fare l'alieno si è fermato vicino al miele ok ho un piano guardate qui ho una campanellina e forse posso attrarre l'alieno vicino alla pozione con questa campanellina questo piano funzionerà l'alieno si avvicinerà alla pozione quando sentirai il suono della campanella vado alieno vieni qui lo sto infastidendo vieni qui c'è una pozione bellissima vieni alieno si sta avvicinando a me oh mio dio si sta avvicinando un alieno pericoloso vieni qui vieni c'è una pozione bellissima guardate la faccia è spaventosa dai alieno spaventoso bevi questa pozione che ti fa diventare più bello diavoletti dove mi hai portato alieno strano dove mi hai portato che cosa è questa stanza questa stanza è molto strana non sono mai stato qui toglimi le mani di topo alieno strano diavoletti ma cosa sono queste scritte sul muro aiutatemi voglio uscire da qui ma qualche persona ha scritto questo in questa stanza cosa sono stata rapita da un alieno aiuto tutte le persone che sono state rapite dagli alieni sono state qui aiuto oh no tante scritte tante scritte cosa chi è lì proprio una persona ed è davanti a me cosa sta dicendo sei stata rapita anche tu dall'alieno quindi sono insieme a questa persona strana nella stanza misteriosa dell'alieno e non so come uscire da qui sono rimasto intrappolato qui dentro come tutte queste persone oh no aiuto come facciamo ad uscire da qui dentro chi è per uscire da questa stanza misteriosa si vuole la parola d'ordine la parola d'ordine una parola d'ordine ok quindi se vogliamo uscire da questa stanza ci vuole la parola d'ordine forse la parola d'ordine alieno strano sbagliato no la parola d'ordine non è alieno strano cosa la parola d'ordine non è alieno strano e qual è la parola d'ordine per uscire da questa stanza quale sarà mai la parola d'ordine lasciate un commento secondo voi qual è la parola d'ordine aiutatemi se no non uscirò mai da questa stanza ciao 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 Grazie.